CQCQ generale, amici CB per un QRX C'è un QTC che dai monti e dal mare ci invita a cantare così 7351 cordiali amici CB del QTH Italia 88 per l'X greco N dal drago che modula in HI Senza QRM portanti si fa un QSO super X Pre qui, Roger là, passo il mic a chi spetta QTC, QRT, salutoni dal drago ICB Per un controllo mi arrivi un Santiago di 9 con un R3 Sei comprensibile al 100% ok, cappai il micro a te 7351 cordiali amici CB del QTH Italia 88 per l'X greco N dal drago che modula in HI Senza QRM portanti si fa un QSO super X Pre qui, Roger là, passo il mic a chi spetta QTC, QRT, salutoni dal drago ICB Senza QRM portanti si fa un QSO super X Pre qui, Roger là, passo il mic a chi spetta QTC, QRT, salutoni dal drago ICB QTC, QRT, salutoni dal drago ICB